Io sono un selvaggio, un lupo nel bosco senza collare. La vita di Paul Gauguin è la corsa di un uomo in fuga. Dall'arte accademica, dal male di vivere della modernità, è la storia di un ribelle che cerca pace in arcipelaghi ancora fuori dalle carte geografiche. L'Ascia Marsiglia, diretto a Tahiti, in Polinesia. È l'inizio di una nuova rivoluzione nella storia dell'arte. I suoi quadri non sono conservati ai tropici, ma in grandi musei dove ogni anno milioni di persone si fermano sognando il loro istante di paradiso. Ciò che lo fa grande è aver saputo creare l'immagine dell'aldilà sulla Terra. Un giardino dove non cresce la pianta del dolore, in cui le stesse ombre della sua anima si arrendono alla grazia senza tempo. Quando finalmente gli uomini comprenderanno il senso della parola libertà, che mi importa della gloria? Sono forte perché faccio ciò che sento dentro di me.